non infrangerò il diritto d'autore non infrangerò il diritto d'autore beh vedete io sono molto inserito nel mondo della tv se la vostra aspirazione è fare le veline io vi posso aiutare come dite siete vergini non c'è problema tornate quando ho finito le riprese portate due paia di manette e un po' di panna io vi salverò dunque cosa dice qui voglio andare dove su ntv ma per carità chi ha scritto questo copione vergognoso non ha senso johnny davvero devo cantare questo testo fasullo come dici che così diventiamo ricchi ok mi hai convinto batti il chac senti ancora un po' ancora bene ok puoi cantare oh nooo allora ragazzi ora ve ne racconto un'altra come si fa a sapere se michael jackson sta facendo un'orgia non lo sapete? beh facile dai pricitri parcheggiati davanti casa ciao ciao Grazie a tutti. La patente per favore. Non ce l'ho. La patente non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky back 69. E fa bene. Anche voi. Non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Stop! È un fischio maschio senza fischio. Stop! Un caschio muschio senza whisky. Stop! Stop! Col fischio? No! Col caschio? Nemmeno! No, io vorrei sapere chi ha scritto queste battute. Come si fa a dirle? Maledetti! Guardate cosa mi avete combinato. Ma come si può essere così imbecili? Mi avete mandato in fumo centinaia di milioni di dollari. Ma noi siamo artisti. Basta, non ne posso più delle vostre cazzate. Lo sapete quanto mi siete costati dall'inizio del contratto? Ve lo dico subito. Fuori di qui, c'ho il trono. Eh? Ma gli arretrati? Cosa? Sì, ecco i tuoi arretrati. Aia. Ed anche la liquidazione. Aia. 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 Sparisci subito da questa città e portati via questa banda di pezzetti. Scappiamo amici. Presto. Aia. Aia. Aia.